Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TgBrowStars Riammi le like, condividete il video e iscrivetevi al canale dei suoi nuovi Lascia il hashtag TgBrowStars sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Intanto voglio ringraziare il ragazzo che mi ha fatto l'intro dell'altra volta Che ha fatto l'intro migliorata che è questa che avete visto oggi Ma andiamo direttamente le notizie perché oggi andiamo a fare un recap di tutte le informazioni che sappiamo sul nuovo aggiornamento Cominciamo dalle ultime che abbiamo appunto trovato Allora, intanto questa era il post che abbiamo visto l'altra volta Sappiamo che la nostra mitica PAM sarà rimodellata Ma non è quello che avete visto all'interno dell'immagine del Championship in Remodel Un'altra cosa di cui siamo quasi certi è che ci sarà un nuovo brawler in questo aggiornamento Perché dopo comunque l'attesa che ci hanno fatto passare sinceramente un pochino di novità si spera Ma la cosa importante è che sappiamo che non sarà assolutamente un brawler della Trophy Road Un'altra cosa che sappiamo è che nel prossimo aggiornamento non ci sarà nessun allungamento della Trophy Road attuale E sappiamo che probabilmente hanno altre idee per la testa per creare delle progressioni alternative alla Trophy Road Un'altra cosa che sappiamo è che queste due skin e questi due grandi creator di art Sono riusciti a far entrare nel gioco Horus Bo e Demonic Bo grazie a un contest Ora bisogna vedere se è nel prossimo aggiornamento o nei prossimi Queste 5 mappe sono una certezza Nel prossimo aggiornamento le vedremo assolutamente perché hanno vinto il contest Andranno a sostituire 5 mappe abbastanza vecchiotte all'interno del gioco E in più vi dico un'altra cosa che già vi avevo detto in passato Gli environment arcade saranno riutilizzati in alcune mappe del nuovo aggiornamento Questa è una cosa che sappiamo assolutamente Queste sono le date delle prossime challenge per le qualifiere e tutto il resto che abbiamo visto nel TG passato E infatti qui ci dice che il 14 appunto iniziano le in-game challenge E il 21 marzo iniziano le online qualifiere Quindi vuol dire che l'aggiornamento o è tra queste date quindi tra il 14 e il 21 O è prima quindi vuol dire questa settimana Come avete visto all'interno del championship è stato mostrato anche il nostro mitico Beryl Che sarà totalmente rimodellato in maniera molto interessante con un cappello enorme e con delle piume in testa Giustamente per ricordarvi questo remodel vi ho messo la bellissima concept art che è stata fatta da questo ragazzo Che c'ha il bellissimo leone che gli mangia le piume Ragazzi siamo alla notizia del giorno anzi in verità di ieri Underdog un nuovo miglioramento del matchmaking in arrivo nel prossimo aggiornamento Andiamo a vedere insieme come funziona Lo tradotto Google Translate ma sembra che abbia tradotto abbastanza bene Andiamo a leggerlo insieme Molti di voi hanno fornito feedback su partite che sembrano ingiuste perché i trofei di un giocatore erano più bassi di quanto dovrebbero essere Speriamo di avere una soluzione a questo Innanzitutto un po' di background su come funziona il matchmaking Questo problema può sorgere spesso quando un gruppo di due è accoppiato con un giocatore solo Quindi uno che va con i random Andiamo avanti se ad esempio Dani 700 trofei e Ryan 400 trofei si trovano in una stanza di gioco insieme e partecipano al matchmaking Verranno abbinati in base ai trofei di Dani che sono i più alti del gruppo 700 Questo ha lo scopo di prevenire gli exploit di matchmaking che in pratica un 700 si trova in una lobby di tutti i 400 quindi ha un vantaggio Questo sarebbe il possibile export Ora un terzo giocatore solista quindi che va con i random Frank 700 si unisce al team Per Frank questa è una cosa totalmente rotta cioè sbagliata perché Ryan 400 è nel team e Frank è in svantaggio Effettivamente è un 400 con due 700 E se dall'altra parte si trovano in una squadra tutta 700 hanno uno svantaggio notevole Vogliamo sempre che gli amici indipendentemente dal livello dei trofei possono giocare insieme La risa è più divertente con gli amici quindi vuol dire che non vogliono impedire il fatto che alcuni con i trofei più bassi Giocano in gruppo se scelto volontariamente Quindi stiamo introducendo il sistema underdog Nell'esempio sopra Frank diventerà giocatore di underdog Perderà meno trofei in perdita e otterrà più trofei per una vittoria Giustamente perché è la persona che è entrata da solo e è entrata in una lobby con uno svantaggio Quindi è giusto che abbia un vantaggio di trofei Ecco i dettagli Il sistema underdog viene utilizzato solo nelle modalità 3v3 e non influisce le shodano quindi la sopravvivenza solo e duo Il tuo stato di underdog verrà mostrato quando entri in una partita quindi sicuramente ci sarà un'immagine o un effetto grafico E anche alla fine puoi diventare un perdente in due scenari Sei quindi un underdog Sei abbinato ad altri due giocatori che fanno parte di una squadra e hanno una differenza di oltre 200 trofei tra di loro Quindi vuol dire se è un 700 e un 500 anzi no in realtà un po' di meno perché dice oltre 200 trofei Giustamente tu che entrerai in quella squadra diventerai un underdog Sei abbinato ad una squadra nemica e cui i trofei medi sono 200 o più alti di quelli della tua squadra Quindi tu avrai un vantaggio perché tu sei quello in svantaggio in quel gruppo assolutamente Nota se fai gioca ancora perderai lo status di underdog perché facendo gioca ancora tu accetti lo status di underdog Nel senso che accetti di essere quello più debole in quella squadra Quindi se avete ottenuto l'underdog uscite e rifate una nuova partita che magari potrebbe ricavitarvi Allora siamo entusiasti di lasciare queste funzioni nel prossimo aggiornamento Tieni d'occhio youtuberi il prossimo brutto che spiegherà tutto ciò che sta arrivando Questa notizia importante e questo spoiler di questo matchmaking ci indica che comunque il Brawl Talk è molto vicino ragazzi Per oggi questo TG Brawl Stars finisce qui, spero vi sia piaciuto Oggi abbiamo fatto anche una bella letta insieme quindi è durato un pochino di più Non vi metterò la clip assolutamente Arriviamo a mille like, condividere il video, iscrivetevi al canale se no E lasciate un hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video